Purtroppo ci troviamo a vivere una crisi assurda, per noi incomprensibile, che il Movimento 5 Stelle chiaramente non ha scelto di aprire. Se fosse stato per noi, probabilmente a quest'ora eravamo nelle aule della Camera, nelle aule del Senato, per approvare i decreti di storia, perché sappiamo che purtroppo stiamo attraversando un momento economico molto complicato a livello globale. Questa crisi purtroppo ha interessato, interessa anche il nostro Paese e noi dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare le imprese e tutti i cittadini che sono in difficoltà. Quindi chiaramente noi siamo veramente, essere fatti per noi è assurdo che in questo momento non siamo in aula a lavorare per il Paese e per i cittadini, ripeto. In queste ore i nostri rappresentanti sono seduti ai tavoli, i nostri capigruppo, e stanno portando avanti quelli che sono i temi programmatici del Movimento 5 Stelle e stiamo cercando di stipulare un contratto di governo che ci accompagni fino alla fine della legislatura. Ness'essi, anche io sono stata chiamata in causa domenica con la mia commissione per cercare di dare, per la redazione di un documento da portare appunto a questi tavoli che in questi momenti si stanno svolgendo alla Camera, tra tutte le forze politiche. Sappiamo che ci sono delle sensibilità diverse, sappiamo che comunque siamo delle forze politiche molto diverse che hanno portato avanti anche negli anni delle battaglie differenti, ma c'è anche altrettanto la consapevolezza di riuscire a traghettare fuori il nostro Paese dalla crisi in cui è sprofondato a causa dell'emergenza sanitaria. Quindi c'è tutta la volontà e l'impegno, almeno noi ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per portare avanti il lavoro che i cittadini ci hanno assegnato e le responsabilità che ci hanno dato. Quando si tratta di lavorare, di parlare di temi, il Movimento 5 Stelle c'è, c'è sempre. Questa crisi purtroppo, ripeto, non l'abbiamo voluta noi, ma faremo di tutto per aiutare il nostro Paese e lo stiamo facendo. Grazie a tutti.